Noi di Replica Sistemi diamo valore alle esperienze maturate nella gestione della logistica di produzione e distribuzione. Insieme ai nostri clienti progettiamo sistemi innovativi e li replichiamo a ogni installazione successiva. Oggi Replica Sistemi fa parte di Zucchetti Group. Con la più grande software house italiana in Europa, la nostra piattaforma Smile è destinata a diventare ancora più potente. Replica Sistemi. Replica Successi. Grazie.